Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto il recap della Weekend League che si è disputata in questi giorni, terminata di martedì grazie a Mamma Yee che ancora una volta ci ha allietato il weekend grazie a epici problemi di connessione che chissà se un giorno riusciranno a risolvere permettendoci di giocare in tranquillità. E in più andiamo ad analizzare quella che è stata una delle partite che ho disputato in maniera tale da andare insieme a vedere come lavorare su quelli che sono gli errori che andiamo a commettere. Quindi con un rapidissimo e classico cambio di scena eccoci qua che ci ritroviamo sulla schermata in game. Vabbè che poi io faccio il misterioso ma in realtà ve l'ho già mezzo spoilerato nel titolo. Difatti questa settimana ci siamo sparati un bel 28 in Weekend League. Quando sto registrando il video attualmente è domenica quindi manca ancora praticamente una giornata intera di VL. Chissà se riusciremo a rimanere in top 200. Lo troverete scritto nell'abbio del video che uscirà ovviamente dopo. E devo dire la verità è stata una VL insomma un po' così perché in settimana non è che ho giocato propriamente bene. Il primo giorno non ho giocato propriamente bene di fatto ho fatto una sconfitta ridicola che purtroppo non trovo nel channel perché sarei voluto andare ad analizzare quella. Eccoci qua siamo al momento 77 in the world con 2310 di punteggiabilità quindi neanche troppo basso anzi direi abbastanza alto in ottica top 200. Anche se vado a confrontare con la precedente l'ultimo della top 200 era un 28 con 2312 quindi la cosa mi puzza un po' e già sono pronto a rimanere bellamente fuori dalla top 200 tipo per mezza posizione. Quindi senza poi andarci troppo a dilungare andiamo subito nel Champions Channel e come vi dicevo andiamo ad analizzare una delle partite che ho giocato andando a cercare di capire appunto come trarre degli insegnamenti dalle partite che appunto non è che vadano propriamente bene. Non vi spoilererò il risultato ma ci andiamo a guardare eccolo qui 28 voilà il match che ho disputato quando ero sul 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 è questo qui esatto sul 14-1 contro questo ragazzo che era 19-6 e poi ha terminato a fuoriclasse. Partiamo subito facciamo caricare il replay della partita un ragazzo questo credo fosse fosse inglese ci siamo ma poco importa aveva anche una squadretta se non ero neanche neanche malvagia anzi no un po' esotica ricordo un Henry ricordo un altra icon comunque una squadra un po' ambigua però non era assolutamente male anche lui giocava bene. Allora abbiamo la sua visuale di gioco questa non è non è la mia questa mi sa che è classica come come visuale io ho questa maglietta della Lazio che mai mi sognerei di mettere in vita mia ovviamente è la maglietta che utilizza lui e quindi noi stiamo vedendo al momento la sua la sua la sua visuale. Vediamo come lui cerca di sfruttare immediatamente questo questo kickoff io però capisco tutto con Varana avete visto come non sono troppo passivo con i difensori quando leggo la giocata non ho paura ad uscire ed è quello che vi consiglio di di fare. Qui cerco la classica azione qua era un tacco tacco non si sa per quale motivo in realtà ha preso una bicicletta visto che il tocchi erano due la bicicletta si fa con tre tocchi ma va bene così qui contropiede con Dembélé che si allunga troppo palle fortunatamente Allison esce a mettere una pezza. Cerco io di impostare l'azione però già possiamo notare un primo errore perché sto cercando di rasciare troppo la giocata adesso mi è andata bene però guardate qui questo passaggio per Mbappé era totalmente letto e assolutamente inutile senza senso qui mi sarei dovuto fermare cercare di ragionare qui lui commessi cerca di salire palla per Henry eccolo qui lo ricordo ed ecco qua eccolo qua questo gol io me lo ricordo perfettamente. Perché avevo switchato il difensore centrale non mi ha registrato lo switch ma ha preso Semedo Semedo è andato totalmente a cogliere le patate una volta terminata la sua scampagnata era totalmente fuori posizione Griezmann ha potuto servire al centro a Henry e ho preso gol. Quindi 1-0 e guardate qui come continuo ancora una volta ero anche un po' tiltato dalla situazione altro errore continuo a fare delle delle giocate un po' sconclusionate guardate lì come ho fatto quel passaggio con Mbappé che assolutamente non c'entrava. E anche qui avevo temporeggiato un malissimo convierà praticamente scoprendo Varane e costringendo a doverlo selezionare un po' troppo presto del previsto. Qui piano piano stavo cercando di recuperare un po' di composure palla dentro per Mbappé classico reverse elastico che da lì mi vado a giocare. Anche qui questo elastico con Neymar era rivedibile palla poi per Ronaldo cerco un altro reverse elastico e vengo chiuso diciamo che una volta subito il gol ero abbastanza tranquillo va stavo recuperando mentalmente perché vedevo che comunque provando quelle che sono le mie classiche giocate gli spazi mi si aprivano anche se comunque il nostro avversario era stato comunque bravo a chiudersi. Guardate qui ancora una volta metto Ronaldo praticamente 1v1 qui probabilmente non dovevo premere il tasto della corsa dopo l'elastico di fatti vado a sbattere contro il suo Virgil e non riesco a concludere quella che probabilmente sarebbe stata un'azione molto pericolosa. Ecco lui aveva anche Ashley Cole esatto era questa la sua seconda icon Ashley Cole era la prima volta che lo incontravo e vedete lui come cerca tantissimo quest'azione con Dembélé cercando di entrare in aria qui gliel'avevo letta perfettamente vince il rimpallo poi ancora una volta Semedo fortunatamente riesce a rinvenire e di conseguenza a evitare problemi ulteriori qui da calcio d'angolo sapete che le ripartenze sono sempre insidiose per l'avversario però stranamente la sua difesa era ritornata immediatamente a posto io qui cercavo Neymar diventa un lancio lungo a metà strada tra Neymar e Mbappé recuperato di testa all'uscita del suo portiere che poi serve anche in maniera perfetta il suo centrocampista. Qui intanto buona la difesa tra lo switch Varane Van Dijk che mi permette di recuperare palla ma ancora una volta secondo me l'errore è stato quello di lasciare troppo giocate anche questo passaggio qui per Mbappé è andato a buon fine ma è un passaggio forzato Neymar era tutto storto era un passaggio che poteva divenire facile preda del mio avversario ancora una volta con Mbappé questa finta ad andare a prendere campo in avanti era inutile perché il mio avversario si era messo davanti io ricordo di aver pensato ok proviamolo a trapassare ma meglio tentare una giocata safe quando si è sotto no piuttosto che cercare strane animazioni qui ottima la chiusura di Virgil su Messi che praticamente Virgil vicino a Messi sembra il padre delle creature che le porta al parco a giocare qui gran azione però Diego Carlos fa un grandissimo intervento qui ancora una volta guardate qui è un'altra giocata sbagliata perché ho cercato di fare il mio classico speed boost puntando l'uomo quando invece magari con Neymar stesso avrei potuto accentrarmi e cercare anche un compagno smarcato al centro qui Neymar ottima la palla di nuovo indietro per Mataus cerco il passaggio di prima verso Mbappé che andava ancora una volta una giocata forzata perché sappiamo bene che questi passaggi di prima non sono da cercare qui ottimo lo switch tra Semedo e Virgil a coprire lo spazio poi con Semedo in cespico ancora una volta poca poca freddezza da parte mia e poca reattività a livello mentale perché lì ci stava magari uno scarico di prima vedete come difendo switchando in maniera molto rapida tra tutti i miei giocatori con Virgil vado nuovamente a marcare Messi Virgil diciamo che gli porta via palla appena si avvicina con la sua aura di onnipotenza qui classica giocata vedete come solitamente prediligo sempre la fascia sinistra per attaccare su questo lato però mi rendo conto che non è un bene perché finisco sempre per ritrovarmi qui e magari divento prevedibile quindi altro errore qui un altro errore perché qui piuttosto che tentare questa finta potevo tentare anzi non è che potevo tentare dovevo assolutamente dare palla dietro a Ronaldo che si era inserito con il tacco insomma in qualche modo quella palla a Ronaldo ci poteva tranquillamente arrivare vedete qui come ho fatto un rapido switch portandomi in chiusura su Griezmann e portando Viera in chiusura su Harry laterale qui ancora una volta gran switchata su Virgil a chiudere su Messi ancora solito canovaccio vedete come cerco di aprire il campo da questo lato qui stavolta la finta con Neymar è giusto è giusto anche il passaggio verso Mbappé giuste le trame verso Ronaldo qui non ricordo esattamente cosa sia successo però potevo giocarla in modo differente sì, potevo provare a stoppare la palla di prima facendo una finta di tiro qui Virgil un'altra switchata top e finisce il primo tempo o avrei potuto controllare palla e fare un elastico in avanti quindi avrei potuto fare diverse cose e probabilmente la fretta, la situazione mentale di essere in svantaggio mi hanno penalizzato e non mi hanno permesso di essere fresco e pensare alla giocata giusta però come potete vedere nonostante non riesca a concludere vado sempre vicino, sono chiuso sempre a quell'ultima frazione di secondo che magari avrebbe potuto portarmi alla conclusione vincente vedete qui come stavolta attacco dal lato opposto chiuso ancora una volta Ronaldo al limite dell'aria qui Viera non arriva su quell'intercetto di un pelo che sarebbe significato veramente oro qui con Semedo copro quella che è la corsa di Dembélé ottima poi la forzatura costretta su Griezmann con Mendy che chiude perfettamente palla poi ancora in fascia verso Mendy Mendy ottimo qui il servizio per Neymar però ancora una volta vengo chiuso da Carvacal e il nostro avversario prova a ripartire qui ho alzato un po' il pressing pressing però manuale non quello del tastierino nessun preset sempre equilibrato nel senso sto cercando magari di andare un po' più alto io a pressare rischiando anche vedete come però recuperare palla è assolutamente importante anche qui passaggio errato perché invece di tornare indietro su Mataus avrei potuto provare a servire immediatamente dentro Ronaldo qui un altro errore perché assolutamente non volevo fare questa skill ma volevo fare il reverse elastico quindi un altro errore un altro ennesimo errore qui forzato con Semedo questo passaggio diretto a Ronaldo era meglio uno scarico in fascia verso Mendy e magari cercare di prendere un po' di campo qui ancora un altro errore perché switcho male su Semedo lasciando il suo Dembélé libero di tirare fortunatamente con Varane recupero si crea anche una situazione pericolosa perché gli arbitri sappiamo che quest'anno sono un po' stunnati quindi per fortuna l'arbitro non fischia il rigore qui ancora un altro erroraccio perché questo passaggio di prima su Viera non ci aveva un minimo senso la palla andava controllata poi per fortuna con Viera riesco a recuperarla e decido finalmente di ragionare cosa che non stavo facendo da tanto tempo questo passaggio qui è gold palla verso Neymar ancora un errore però perché qui lo speed boost che tento solitamente non potevo farlo perché il corpo di Neymar era girato quindi ne viene fuori un'animazione marcia recupero però palla con Mendy forse qui avevo anche iniziato a mettere un po' di pressing col tastierino ancora un altro errore perché non c'era quel passaggio per Mbappé fortunato nel rimpallo palla poi per Neymar dietro per Ronaldo provo l'elastico provo a girarmi drag back provo un tiro rimpallato anche qui invece che calciare visto che avevo Virgil davanti avrei potuto fare un tacco-tacco non lo so una finta di tiro per provare a prendere ulteriore campo oltre che l'errore sta anche nel fatto di tentare un tiro sul primo un po' così visto che quest'anno sappiamo che sul primo palo non è che si segna più di tanto qui gran difesa con Virgil che si mette tra Griezmann e Messi ma vedete come rascio troppo anche questo passaggio qui è fortunato verso Mbappé a passare perché il suo difensore non si sa che cosa combina qui però buona poi l'azione e invece di tornare indietro su Villar avrei potuto servire direttamente Ronaldo qui un altro errore perché invece di prendere bene il reverse elastico viene fuori questa cosa qui ottimo però il recupero palla di Varane alto e qui un altro errore perché con Manet questo passaggio non c'era meglio controllarla mettere diselezionato bene il corpo e fare un passaggio un po' più safe qui sbaglia lui anche io però tento un altro passaggio verso Vieira che è un po' esotico qui con Mataus cerco un filtrante verso Mbappé che non esiste palla allora recuperata per lui Mataus poi non arriva per un pelo su questa palla lui cerca questo tiro sbagliando perché secondo me avrebbe dovuto continuare a prendere campo con Henry e palla che finisce in calcio d'angolo diciamo che predicto un cross al centro switcho però male fortunatamente Vieira riesce a metterci una pezza poi c'è un po' di parapiglia in aria con la palla che Mendy cede a Diego Carlos poi succede quello che succede Allison la recupera ma anche lì con Mendy ho panicato assolutamente non andava fatto mai quel passaggio qui cerco di ripartire vedete come qui quando attacco verso destra sono molto più ho molta più varietà switcho parecchio tra Mané e Neymar come fascia d'attacco cosa che dovrei fare anche di più dall'altro lato Mataus cerca Neymar qui l'elastico lo tento purtroppo non va a buon fine e il nostro avversario riesce a recuperare palla qui ho alzato i giri mi sa che sto iniziando a mettere in maniera in maniera ricorrente il pressing del tastierino qui avevo switchato alla grande ma il rimpallo favorisce il nostro il nostro avversario purtroppo palla poi ceduta verso Fabinho buono lo scambio ancora con Cole ovviamente lui cerca di rallentare la manovra addormentare la partita per portare a casa una vittoria importante visto che appunto era in lotta per il fuoriclasse abbiamo scoperto qui gran recupero con la switchata subvierà cerco lo scambio rapido tra tra Mané e Ronaldo con Mané cerco di prendere campo vedete qui queste sono le giocate giuste bisogna ragionare non farsi prendere dalla fretta del cronometro un altro errore che ho fatto e non sono stato lucido mentalmente è stato quello di cambiare modulo perché avrei potuto mettere un modulo offensivo cosa che invece non ho fatto qui ho ceduto palla a Mbappé che purtroppo era in fuorigioco e anche qui un passaggio forzato perché avrei potuto magari fare qualche altro passetto in più con Mané e aspettare che Mbappé si posizionasse meglio qui gran palla recuperata con questo intervento di Varane cerco ancora di creare una soluzione favorevole questo passaggio di Viera è sbagliato la palla dovevo darla a Mané fortunato nel rimpallo l'aceto a Ronaldo qui forse era bene tentare una finta di prima che secondo me avevo fatto ma come avete visto l'animazione è partita in ritardo qui c'è sicuramente il pressing ma il nostro avversario riesce magicamente a vincere questo contrasto in mezzo a nulla con Messi se ne va sulla fascia 86esimo palla scucchiaiata dentro per fortuna sbatte sulla traversa senza deviazioni di Allison e quindi calcio di rinvio per noi con il cronometro che segna 87 minuti e quindi manca davvero poco ultimi minuti per cercare di fare qualcosa di buono cerco di imbastire la mia solita azione con Mataus qui però mi addormento poco reattivo Mataus lì Fabinho sbaglia il passaggio ma Mendiglielo butta in rimessa laterale quindi può ripartire per l'ultima azione il nostro avversario però sbaglia tutto sbaglia tutto cedendomi l'ultima azione qui probabilmente giocata male perché invece di fare questa cosa avrebbe potuto allargare magari su Neymar palla allargata verso Dembélé termine laterale l'arbitro fischia tre volte decretando la fine della partita quindi perdo 1-0 fondamentalmente avendo concesso solamente quel gol lì quell'errore sullo switch non preso purtroppo che non riusciamo a vedere perché è ancora un po' fallato il tutto quindi vedete avete visto come un errore anche se magari diciamo non voluto ma dettato dal dal nervoso eccetera ossia quello switch sbagliato abbia compromesso poi una partita intera visto che ho continuato a sbattere ripetutamente sulla sua sulla sua difesa e nulla raga comunque per quanto riguarda il recap della VL chiaramente è tutto spero che nell'abbio del video trovate scritto siamo rimasti in top 200 quindi spero che giovedì possiamo aprire in live i premi della top 200 sperando anche in una squadra della settimana che sia abbastanza decente e nulla io vi do appuntamento lo sapete come ogni giorno in live sulla piattaforma viola dalle 10 alle 16 in più vi ricordo di lasciare un like e commento che fanno sempre bene per aiutare a crescere questo canale e nulla raga mi raccomando fate bravi vi auguro una buona giornata ciao